Queste sono le nuove Insta360 Link 2 e Link 2C che sto utilizzando in questo momento per registrare questo video. La telecamera frontale infatti è la 2 che è capace di girarsi e tracciarti da solo o anche in gruppo insieme ad altre persone tramite l'intelligenza artificiale. La Link 2C è capace di farlo invece non meccanicamente ma digitalmente infatti come puoi notare in questo momento sto zoomando in e out ma posso anche muovermi. L'intelligenza artificiale riesce infatti a fare il reframing automatico quindi non si gira in automatico e ti insegua a 360 gradi ma eventualmente puoi farlo tu manualmente. Ma andiamo in ordine partendo dal motivo per il quale sto registrando direttamente con queste telecamere per farti vedere la qualità. La qualità massima è in 4K a 30 frame al secondo ma la qualità non è solamente data dalla risoluzione ma anche dal sensore da un mezzo pollice ma non solo è data anche dall'ottica commessa a fuoco meccanica qualità unica del suo genere in una tra virgolette webcam. Infatti come puoi notare in questo momento tutte e due le scritte su queste scatole sono a fuoco appena avvicino questa scatola qui vedi che questa è a fuoco invece quest'altra è fuori fuoco. E ti faccio notare che è molto veloce a mettere a fuoco e sfocare l'altra parte non solo una cosa che mi piace tantissimo è che la distanza minima di messa a fuoco è di circa 5 centimetri. Si può ingrandire tantissimo in post come puoi notare per leggere. Adesso sono con una distanza di circa 5 centimetri vedi che la chiarezza delle scritte con un ingrandimento a 4x con una tra virgolette webcam questo servirà tantissimo non solamente per esempio come lo sto utilizzando io che non so se c'è tanta gente che potrebbe utilizzarlo in questo modo quindi una telecamera davanti e un'altra sopra per filmare fare una recensione far vedere un tutorial o qualcosa. Ma questo servirà anche ad altre funzioni molto interessanti. Quali sono le differenze tra la Link 2 e la Link 2C? Beh la prima differenza è il prezzo la Link 2C costa di meno nonostante che abbia lo stesso sensore la stessa risoluzione e la stessa messa a fuoco meccanica quindi reale. L'unica differenza che c'è tra le due è questo gimbal che funziona per il tracciamento meccanico quindi la telecamera ti vede e ti segui. A 360 gradi eventualmente se serve mentre la Link 2C può fare la stessa cosa ma lo devi fare manualmente tu quindi girare la telecamera il che è molto facile utilizzando il supporto magnetico che è uguale per tutte e due infatti sono magnetiche si mettono su questo supporto che come puoi notare una volta agganciato alla telecamera può inclinare la telecamera. Si può agganciare su un monitor per esempio si può mettere sul tavolo o si può agganciare anche a un treppiedi o qualsiasi supporto con una vite da un quarto di pollice. Lo stesso supporto arriva anche per la Link 2 che si aggancia sempre magneticamente quindi la Link 2 oltre a muoversi in questo senso può essere anche inclinata manualmente e agganciata alla stessa maniera della Link 2C. Tutte e due le telecamere si connettono e si alimentano tramite un cavo USB-USB-C o USB-C-USB-C. Infatti in dotazione abbiamo un cavo lungo USB-C-USB-C con un adattatore da USB-C a USB. eventualmente se il tuo computer non ha una porta USB-C o non ha una porta libera USB-C ecco puoi interscambiare a seconda della porta libera che hai sul tuo computer. inoltre tutte e due arrivano con questi segnalatori per un'eventuale lavagna che servono e non servono perché la nuova Link 2 e Link 2C è capace anche di rilevare tramite l'intelligenza artificiale la lavagna anche senza segnalatore. Ovviamente col segnalatore è meglio però si può fare anche senza. l'applicazione Link Controller permette di fare un sacco di cose sia automaticamente ma manualmente anche per esempio si può muovere il gimbal automatico della versione 2 non quella 2C perché quella devi farlo con la mano proprio ma permette anche di fare il tracciamento automatico tramite l'applicazione ma come puoi notare però posso disabilitare il tracciamento automatico con un gesture posso per esempio aumentare lo zoom o diminuire lo zoom direttamente tramite un movimento della mia mano. posso attivare o disattivare la modalità lavagna facendo così ecco in questo momento non c'è nessuna lavagna quindi sta scansionando ma non troverà nulla perché non ho messo i segnalatori. tutte e due le telecamere Link 2 e Link 2C hanno la nuova funzione lavagna intelligente ovvero il riconoscimento della lavagna anche senza i segnalatori in dotazione. l'importante è che la lavagna sia bianca quindi riconoscibile tramite l'intelligenza artificiale delle due telecamere. nel caso contrario come in questo caso qua che il muro non è di colore bianco basta mettere i segnalatori e mentre stai parlando fai il segno della vittoria la telecamera scansiona in automatico la lavagna si avvicina e puoi spiegare le cose direttamente sulla lavagna. una volta che hai finito fai sempre il segno della vittoria un'altra volta la telecamera torna su di te e continua a tracciarti eventualmente se avessi attivato il tracciamento automatico. una cosa molto interessante per la quale secondo me vale la pena prendere la versione 2 piuttosto che la 2C e la possibilità di vedere il desk view ovvero automatico. a portata di clic clic il bottone la telecamera si direziona in automatico in giù e come puoi notare posso mostrare il mio tavolo di fronte al computer. che in questo momento come puoi notare è invertito ma posso invertire l'immagine come voglio facendo flip orizzontale. adesso infatti l'immagine è corretta non solo tramite il mouse come puoi notare posso zoomare in e out posso cambiare la direzione della telecamera. e questo cambiamento è meccanico non è digitale quindi la qualità è ottima adesso zoom di più e faccio la stessa cosa muovo e posso concentrarmi su una cosa. vedi la qualità dell'immagine è fantastica ma anche la possibilità di muoversi e muovere la telecamera e decidere cosa inquadrare quando inquadrarlo sia manualmente ma anche automaticamente tramite l'intelligenza artificiale. un'altra novità delle insta 360 link 2 e 2c è la possibilità di controllare la telecamera totalmente dalla cellulare. come si fa anche questa è una cosa molto interessante perché basta cliccare sul pulsante qua del controller scansionare tramite cellulare il qr code che viene generato. devi essere però sulla stessa wifi e a questo punto hai gli stessi controlli che hai sul controller direttamente sul cellulare in una pagina del browser. infatti adesso come puoi notare posso muovere la telecamera posso zoomare in zoomare out tutti i controlli ma anche le opzioni su link controller su windows ce le abbiamo specchiati qua sul cellulare. e questo permette non solo a te di controllare la telecamera tramite cellulare mentre stai presentando ma permetterebbe eventualmente anche a una terza persona di controllare la telecamera e tutte le impostazioni durante la presentazione. abbiamo la possibilità di regolare il tracciamento che adesso attivo tramite i gestures. la testa vedi che adesso mi muovo la telecamera si muove aggiusta lo zoom per inquadrare solamente la mia testa. se clicco su busto in automatico la telecamera fa zoom out e cerca di inquadrarmi sempre alla stessa altezza del busto con lo stesso zoom. nonostante che mi stia muovendo come vedi aggiusta tutto in automatico ma posso anche decidere di far vedere tutto il corpo. adesso mi muovo mi allontano dalla telecamera la telecamera cercherà di fare zoom out il più possibile mi muovo anche di qua vedi che la telecamera mi sta inquadrando e sta cercando di aggiustare lo zoom in base alle mie preferenze. facciamo la stessa prova con l'inquadratura della testa quindi adesso mi allontano un'altra volta la telecamera mi segue e cerca di zoomare come vedi inquadrando la testa. molto utile la funzione che permette di passare da una posizione memorizzata all'altra prima bisogna disattivare il tracciamento automatico e per esempio aggiungere una posizione salvata così quindi aggiungo una. un'altra zoom out e aggiungo un'altra qua magari c'è una persona lì vicino a me e quindi cliccando da una posizione all'altra vedi che passa molto rapidamente. stessa cosa per quanto riguarda il tavolo adesso aggiungo un'altra posizione del tavolo quindi passo dalla posizione qua alla posizione qua rapidamente molto molto facilmente. molto interessante anche la funzione nuova pausa tracciamento specialmente per chi fa delle conferenze deve spiegare delle cose indicare delle delle cose ecco ti faccio vedere come funziona per esempio se volessi spiegare delle cose su queste scatolette qua cosa faccio? attivo la funzione e aggiungo una posizione di tracciamento qua di pausa tracciamento quindi quando mi soffermo su queste scatole qua in questa posizione su questa scatola il tracciamento dovrebbe farsi una pausa per permettere allo spettatore di vedere la scatola bene ma prima come puoi notare abbiamo un'esposizione molto alta quindi vado qua e la sistemo la metto a zero le v perché l'avevo aumentata prima quindi attivo il tracciamento questa funzione è abilitata adesso la telecamera mi segue ma quando vengo di qua vedi che in automatico ha rilevato la scatola dopo qualche secondo che mi sono soffermato sulla scatola mi muovo torno nella posizione originale e la telecamera torna molto utile per automatizzare tutto durante una spiegazione una conferenza su un oggetto anche la gestione dell'immagine molto interessante e molto completa abbiamo la possibilità di gestire l'esposizione automatica aumentandola o diminuendola ma possiamo anche fare tutto in manuale gestendo l'iso la velocità dell'otturatore la luminosità contrasto saturazione livello di nitidezza possiamo anche attivare o disattivare l'hdr che potrebbe essere molto utile per esempio in situazioni come queste dove c'è un contrasto e una luminosità molto differente tra per esempio questa parte e quest'altra parte vedi com'è differente l'immagine con l'hdr e senza adesso si sta regolando molto più bella con l'hdr devo dire questa con hdr e questa senza hdr abbiamo anche la possibilità di aggiungere uno sfondo virtuale per esempio questo uno sfondo sfocato che aggiunge una sfocatura ulteriore rispetto a quella ottica infatti come puoi notare adesso mi muovo e tutto sfocato tranne me posso anche per esempio aggiungere un altro sfondo come questo per esempio e dovunque mi muovo come puoi notare sono sempre nello stesso sfondo tu non vedi niente dove mi sto muovendo posso parlare e nascondo lo sfondo ci sono tanti sfondi ma si possono aggiungere anche altri personalizzati la cosa bella è che lo sfondo può essere anche un video non solamente una foto infatti come puoi notare qua lo sfondo dietro di me si muove hai anche la possibilità di aggiungere dei filtri ritratto o per esempio neon si possono attivare o disattivare i gesti un altro punto molto interessante di questa telecamera è la cancellazione attiva del rumore del microfono infatti in questo momento e durante tutto il video stavo registrando con il focus sulla voce ma si può anche ridurre il rumore di fondo ma si può anche utilizzare la modalità musica se volessi sopprimere di più la voce e il rumore di fondo e esaltare di più la musica tutte e due le telecamere hanno la modalità privacy la link 2 basta spostare l'obiettivo in giù e come puoi notare si spegne direttamente la telecamera per riattivarla un'altra volta basta spostarla in su e come vedi si riattiva rifacciamo un'altra volta spenta accesa invece la link 2c si disattiva tramite uno switch meccanico qui sul lato che chiude direttamente l'obiettivo come puoi notare aperto chiuso aperto chiuso tutte e due le telecamere hanno la possibilità di ridurre la risoluzione per trasmettere eventualmente se hai una linea non molto buona potresti trasmettere a 1080p o 720p a 30 frame al secondo ma puoi anche trasmettere in 9 sedicesimi eventualmente se ne avessi bisogno se stai trasmettendo non so su facebook o anche su tiktok puoi farlo con questa telecamera collegando tutte e due le telecamere a un solo computer si possono fare un sacco di cose adesso passo per esempio alla 2c direttamente e come vedi anche lei riesce a tracciare ovviamente è uno tracciamento elettronico non meccanico infatti ha dei limiti quindi se mi sposto di qua lei si sposta però mi centra nell'immagine ma fino a un certo punto poi non riesce più a centrarmi nell'immagine una cosa che mi è piaciuta tantissimo è il poter collegare più di una telecamera a un solo computer infatti tutto questo video è stato fatto con due telecamere la link 2c e la link 2 e si possono scegliere come vedi da qui da quale immagine possiamo prendere non solo come puoi notare in questo momento io sto registrando tre cose contemporaneamente sullo stesso computer lo schermo sto registrando anche tramite l'applicazione con una telecamera ma posso anche ricevere la stessa immagine della stessa telecamera su due programmi differenti contemporaneamente cosa unica del suo genere e questo grazie alla modalità virtual camera quindi ogni telecamera riesce a trasmettere due streaming contemporaneamente infatti adesso se clicco qua la sorgente di questa immagine qua non è la 2c o la 2 e la virtual camera la virtual camera cambia in base alla telecamera che abbiamo scelto sul programma controller infatti adesso ho scelto l'altra telecamera e cambia vedi l'immagine tra una e l'altra adesso è la 2 e questa invece è la 2c infatti la telecamera virtuale non è altro che il flusso della telecamera che passa attraverso il link controller e quindi poi va a un altro programma questo permette per esempio di aggiungere filtri o sfondi virtuali o utilizzare un'altra applicazione come sto facendo in questo momento assieme all'applicazione link controller da aperta che vedi anche l'immagine quindi vedi due immagini con due flussi al posto di dover spegnere l'anteprima durante l'utilizzo di un altro programma che sia zoom meet o anche obs che sto utilizzando in questo momento detto questo se le tue esigenze sono classiche quindi webcam ad altissima qualità con un'immagine strepitosa anche in bassa luminosità per fare streaming classico per didattica a distanza per delle videoconferenze senza l'esigenza di alzarti muoverti davanti allo schermo e che la telecamera ti possa seguire e eseguire i tuoi comandi allora sicuramente con la 2c dove ci sta per classic andresti a risparmiare un po di soldi d'altra parte se vuoi qualcosa di completo che ti segue dove puoi fare una conferenza dove puoi allontanare anche in angolazione dietro allo schermo con delle funzioni a 360 gradi sicuramente la link 2 è quella che fa per te e e e e e Grazie a tutti.